Brillante rialzo per l'oro nero, che lievita in modo perpotente, con un guadagno del 26,30%. L'esame di breve periodo del petrolio classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 122,33 e primo supporto individuato a 102,37. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva. Ottima performance per il carburante, che ha chiuso la settimana in rialzo del 29,15%. Le implicazioni di breve periodo del raffinato del petrolio sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 3,706. Possibile una discesa fino al bottom a 3,132. Ci si attende un rafforzamento positivo della curva, brillante rialzo per il derivato sul gas, che lievita in modo perpotente, con un guadagno del 9,64%. Allo stato attuale lo scenario di breve del derivato sul gas rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 5,084. Le attese sono per un innalzamento della curva fino al top 5,595. Prepotente rialzo per il frumento, che archivia la settimana con una salita bruciante del 34,79%. Il quadro tecnico di breve periodo del derivato sul grano mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 1,270,75. Effervescente il mais, che archivia la settimana con una performance decisamente positiva del 14,38%. La tendenza di breve del grano turco è in rafforzamento con area di resistenza vista a 771,92, mentre il supporto più immediato si intravede a 716,67. Settimana decisamente positiva per la soia, che ha terminato la settimana in rialzo del 4,76%. La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 1,697,58. Prepotente rialzo per il metallo giallo, che archivia la settimana con una salita bruciante del 4,49%. Tecnicamente, l'oro è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1995,38, mentre il supporto più immediato si intravede a 1929,73. Grazie a tutti i nostri spettatori. Grazie a tutti.